La seconda edizione della Sama School sullo sviluppo sostenibile organizzata da ASVIS, l'Alleanza Nazionale sullo sviluppo sostenibile in collaborazione con Santa Chiara Lab dell'Università di Siena e altri attori importanti come Fondazione Enel, Leonardo, la Rete delle Università Sostenibili, SDSN Globale e SDSN Med. Quindi un gruppo di attori importanti per far che cosa? Per evidenziare quali sono i percorsi per arrivare a società più eque e un pianeta più sostenibile. Tra l'altro sono 4 anni che è stata adottata l'Agenda 2030 quindi è anche il momento sia di fare qualche primo bilancio ma anche di definire bene i percorsi del futuro. In questo contesto ci sarà anche un ruolo dedicato alle imprese perché le imprese possono sicuramente dare un contributo. Certo, lo possono dare negativo ma possono dare anche positivo e su questo ci sarà un fuoco da parte della nostra scuola.